In casa Avellino si cerca di sfoltire l'organico prima possibile, c'è tanto da fare per gli addi con la triade per i netti con Dostrano che dovrà trovare presto una soluzione per quei giocatori che non fanno parte del nuovo progetto, per quegli elementi che il tecnico Michele Pazienza non considera adatti alle sue idee. Su Francesco Maisto che torna all'ombra del partenio dal Potenza si è fiondato in Latina di Patti che nelle scorse settimane si era interessato anche a Salvatore Pezzilla, quest'ultimo finito ora nel medino del campo basso. I molisani hanno preso informazioni anche su Luca Falbo, i due pletti di Montevideo e nuovamente sulle tracce di Lores, Ignacio Varela per Pasquale Pane e sempre corso a due tra Turris e Cavise. Potenza dell'ex DS Biancovirti Enzo De Vito ha messo nel medino Davide Mazzocco per cui c'era stato anche un sondaggio del Pescara ma anche Agostino Rizzo. Luca Trebbiani, neotecnico del Trento, insiste per avere alle proprie dipendenze Felice D'Amico con lui a Fioranzuola lo scorso anno. Fabio Tito piace sempre a Gubbio e Pescara. Nel frattempo altri due giovanissimi firmeranno il loro primo accordo con l'Avellino. Francesco Di Paola e Matteo Di Paola, gemelli classe 2005, giunti in bianco verde dall'Eleonardo Surro di Ariano nel 2020. Reduce rispettivamente delle esperienze di Corzano e Sisegu Sindì per il secondo 30 partite e 6 assist con la formazione siciliana.